Quali anni Francesco? Qui avevo 7 anni 7 anni? Ti avevi visto giocare contro la Roma perché tu giocavi nei Nodigiani da bambino Sì, era un torneo nei primi calci Hai già fatto le colpe di tacco No ma attenzione perché andando adesso avanti con le immagini vedremo Francesco che veramente fa vedere delle qualità e lì davvero si riescono Carlo, si scoprono i campioni veramente a questa età? O no? Quanti anni aveva lì? 7 anni Questa diventa difficile Io non ho mai fatto settore giovanile A 8 anni ci sono le qualità che poi dopo per per bravura, capacità Come fa un allenatore ad individuare? A 8 anni diventa obiettivamente difficile Un ragazzo che ha 8 anni dimostra queste qualità è chiaro che va seguito ma non tutti Credo a 8 anni tanti ragazzi